Benvenuti a questo ultimo appuntamento con la nuova serie di Telemuviamoci. Per la lezione di oggi, come anticipato al termine della precedente, avremo bisogno della nostra solita sedia e di una palla o qualcosa di comodo che possiamo comodamente tenere in mano. Ora la palla però la appoggiamo accanto a noi, il primo esercizio che andremo a eseguire è in piedi. Come solito Cristina ce lo mostrerà, poi lo svolgeremo tutti assieme, ma raccomandiamo come solito lo spazio ampio attorno a noi per poterci muovere in libertà senza ostacoli, una tuta, una maglietta, un paio di calzoncini, qualcosa di comodo addosso che ci permetta di muoverci in piena libertà, delle scarpe da ginnastica o delle calze antiscivolo per prevenire eventuali cadute e la solita assistenza del nostro familiare qualora dovessimo riscontrare qualche difficoltà nei movimenti che andremo a proporre. Ci posizioniamo quindi in piedi davanti al nostro teleschermo, piedi paralleli e vicini, braccia lungo il fianco. Quello che andremo a fare è portare le braccia ad unirsi sopra la testa, contemporaneamente andiamo a aprire una gamba verso l'esterno e quindi torniamo alla posizione di partenza. Apriremo nuovamente le braccia portandole verso l'alto, aprendo questa volta la gamba sinistra. Alterneremo la destra, torneremo al centro e andremo a sinistra. Quindi un movimento dinamico, Cristina ovviamente andrà alla velocità che dovremo cercare di tenere ma qualora ci fosse necessità possiamo anche rallentare il gesto senza troppi problemi. Partiamo quindi tutti assieme, braccio lungo i fianchi, piedi paralleli e vicini e andiamo sulle braccia, gamba che si apre a destra, torniamo al centro e via andiamo a sinistra, vado e torno, andiamo a destra sulle braccia, piede destro che si apre all'esterno. Apro piede sinistro e chiudo. Apro piede destro e ritorno. Sulle braccia apriamo il piede sinistro e torniamo al centro. Piede destro, braccia verso l'alto. E andiamo a sinistra e ritorno. Destra e ritorno. Sinistra e ritorno. Apro bene la gamba destra, mani che si uniscono sopra la testa. E vado a sinistra. Ritorno. Destra. Ritorno. Sinistra e ritorno. Destra. Ancora pochi secondi. Apriamo il piede sinistro sulle mani. Apriamo la gamba destra e su verso l'alto i nostri archi superiori. Apro e chiudo. Apro. Chiudo. Apro. E chiudo. Molto bene. Recuperiamo ora la nostra palla e eseguiamo il nostro esercizio dual task di oggi. Avremo i nostri soliti quattro colori. Blu, che corrisponde al braccio destro. Rosso, che corrisponde al braccio sinistro. Verde, che corrisponde alla gamba destra. Giallo, che corrisponde alla gamba sinistra. Il blu e il rosso saranno i colori che comandano le braccia. Il verde e il giallo saranno invece i colori che comandano le gambe. Le nostre braccia faranno il movimento che abbiamo visto fino adesso, ovvero andranno ad aprirsi, a chiudersi sopra la testa. Se dirò blu, il movimento sarà eseguito tenendo la palla nella mano blu, quindi la mano destra, e torniamo al centro. Se dirò rosso, corrisponde alla mano sinistra, quindi il movimento di chiusura verso l'alto tenendo la palla nella mano sinistra. Quindi ripetiamo, blu, movimento delle braccia verso l'alto tenendo la palla nella mano destra. Rosso, movimento verso l'alto tenendo la palla nella mano sinistra. E questo è il movimento degli arti superiori. Gli arti inferiori ripeteranno quello che abbiamo appena fatto, ovvero si apriranno a destra, se dirò verde, o a sinistra, se dirò giallo. Quindi ripetiamo, verde corrisponde al piede destro che va verso l'esterno, torneremo sempre al centro. Giallo corrisponde al piede sinistro che si apre verso l'esterno. E andremo a unire i due movimenti. Quindi se dirò blu e verde, andremo a aprire il piede destro, braccia verso l'alto tenendo la palla nella mano destra. E torniamo al centro. Se dirò rosso e giallo, apriremo la gamba sinistra e la palla salirà verso l'alto tenendola nella mano sinistra. Se invece dirò blu e giallo, apriremo il piede sinistro, le braccia vanno verso l'alto con la palla nella mano destra. Se dirò rosso e verde, braccio sinistro e gamba destra. Quindi ripetiamo velocemente e poi partiamo tutti assieme. Il blu corrisponde alla mano destra, il rosso corrisponde alla mano sinistra, il verde corrisponde alla gamba destra, il giallo corrisponde alla gamba sinistra. E partiamo tutti assieme. Palla ora al petto, piedi paralleli e vicini tra loro. E proviamo a partire tutti assieme lentamente. Blu e verde. Quindi palla nella mano destra e gamba destra che si apre all'esterno e torniamo al centro. Rosso e giallo. Saliamo tenendo la palla nella mano sinistra e si apre la gamba sinistra. E ritorniamo. Giallo e blu. Gamba sinistra, mano destra e ritorniamo al centro. Verde e rosso. Palla nella mano sinistra, si apre la gamba destra e ritorno. Rosso e giallo. Palla nella mano sinistra, gamba sinistra che si apre all'esterno. Palla nella mano destra e ritorno. Palla nella mano sinistra, si apre la gamba sinistra e ritorno. Palliamo al centro, recuperiamo qualche secondo, poi ripetiamo ancora per un minuto, per una sessione da un minuto, questo esercizio che ora dovrebbe essere molto più chiaro. Se siamo stanchi, possiamo eseguirlo anche da seduti, apriremo la gamba sempre verso l'esterno e la riporteremo al centro, comodamente seduti sulla nostra sedia. Ci mettiamo quindi in posizione e partiamo con l'ultima sessione da un minuto di questo esercizio. Palla al petto, piedi paralleli e via. Verde e blu. Mano destra, piede destro e torniamo al centro. Rosso e giallo. Tutto sinistra, sia la mano che il piede. Rosso e verde. Mano sinistra, piede destro. Blu e giallo. Mano destra, piede sinistro e ritorno. Verde e rosso. Mano sinistra, piede destro. Rosso e giallo. Mano sinistra, piede sinistro e ritorno. Blu e verde. Mano destra, piede destro e ritorno. Verde e rosso. Mano sinistra, piede destro. e ritorno, blu e giallo, mano destra, piede sinistro, e ritorno, rosso e verde, mano sinistra, piede destro, ritorno, blu e giallo, mano destra, piede sinistro, molto bene, perfetto. Posizioniamo ora accanto a noi la palla, andiamo a sederci comodamente sulla nostra sedia, schiena ben appoggiata allo schienale, posizioneremo le mani sulle spalle, braccia che andranno ad aprirsi verso l'esterno, contemporaneamente a questo movimento andremo a distendere in avanti una gamba, quindi apriremo le braccia verso l'esterno, contemporaneamente solleviamo il piede destro in modo da avere il ginocchio completamente disteso, le mani torneranno alle spalle mentre il piede tornerà ad appoggiarsi al pavimento e alterneremo gamba destra e gamba sinistra, quindi apriremo le braccia sollevando il piede sinistro, riportiamo le braccia alle spalle riappoggiando il piede e alterneremo quindi questo movimento delle due gambe. Ci mettiamo quindi tutti in posizione, schiena ben appoggiata allo schienale, mani alle spalle e via, apro le braccia sollevando il piede destro e torno giù e torno con le mani alle spalle e via, apro sul sinistro e ritorno e via, apro sale al destro, siamo a 3 e ritorno, vi apro le braccia sul sinistro, siamo a 4, apro sul destro 5, apro sul sinistro 6 e ritorno, apro sul destro 7 e ritorno, apro sollevando il sinistro, siamo a 8, ancora uno per gamba, via, apro sollevo il piede destro 9 e via, apro le braccia sollevo il sinistro 10, molto bene, riposiamo un attimo, poi ripetiamo l'esercizio sempre partendo con le mani alle spalle, il movimento delle braccia sarà identico quindi in apertura verso l'esterno, le gambe partiranno distese in avanti con i piedi appoggiati al pavimento, quindi portiamo leggermente in avanti i piedi, quando le braccia si apriranno i piedi si solleveranno da terra, quando le mani torneranno alle spalle i piedi torneranno al pavimento, quindi non partiamo con le ginocchia piegata a 90 gradi come prima, ma abbiamo le gambe leggermente distese in avanti, partiamo tutti assieme, ci posizioniamo, mani sulle spalle, gambe leggermente distese con i talloni appoggiati a terra e via, apriamo le braccia sollevando tutte e due le gambe, i piedi tornano giù, le mani tornano alle spalle e uno e via, due, salgo con i piedi mentre le mani si aprono e giù, via, tre, su bene i piedi, braccia che si aprono e giù, via, quattro, apro, distendo bene le gambe sollevando i piedi e giù, via, cinque, sollevo le gambe, apro le braccia e giù, via, sei, distendo le braccia all'esterno, gambe che salgono verso l'alto e giù, via, sette, apro, sollevo i piedi e giù, via, otto e ritorno, ancora due, apro le braccia, sollevo le gambe e scendo con i piedi e riporto le mani alle spalle e via con l'ultimo, dieci gambe che si sollevano, braccia che si aprono e torniamo alla posizione di partenza. Ci mettiamo ora in piedi, andiamo ad appoggiarci con tutte e due le mani allo schienale della sedia e quello che andremo a fare è il movimento in punta di piedi, quindi tenendo le mani appoggiate allo schienale andremo a staccare i talloni il più possibile e una volta raggiunta questa posizione andremo a distendere un braccio verso l'alto, prima al destro, poi riappoggiamo la mano, appoggiamo i talloni e quindi eseguiremo la stessa cosa però alzando il braccio sinistro e ne facciamo una decina alternando una volta al braccio destro, una volta al braccio sinistro. Obiettivo è alzarci in punta di piedi staccando i talloni, salendo il più possibile, sempre tenendo la schiena e la testa in asse con le gambe e perpendicolari al pavimento. Ci mettiamo in posizione, lo eseguiamo tutti assieme, mani appoggiate allo schienale della sedia in modo da essere certi del nostro equilibrio e via, saliamo in punta di piedi sul braccio destro, scendiamo con i talloni e riappoggiamo la mano, via, saliamo, solleviamo il braccio sinistro e due e scendiamo, via, saliamo sul braccio destro e tre e scendo, via, quattro, solleviamo il braccio sinistro e torniamo giù, via, cinque, sollevo bene il braccio destro e ritorno, via, sei, sollevo bene il braccio sinistro e scendo, via, sei, sollevo bene il braccio destro e torno giù, via, otto, sollevo bene il braccio sinistro e scendo, via, nove e ritorno, e via, dieci, sollevo bene il braccio sinistro e ritorno. Benissimo, movimento identico, questa volta però avremo un piede, il destro appoggiato alla gamba sinistra e andremo a eseguire lo stesso movimento ma in appoggio solo su una gamba, sempre alzando una volta il braccio destro e una volta il braccio sinistro. Ci mettiamo quindi in posizione, piede sinistro appoggiato a terra, piede destro appoggiato alla gamba sinistra e via, saliamo, distendiamo il braccio destro verso l'alto e torniamo giù, saliamo sempre sullo stesso piede, braccio sinistro e giù, saliamo e portiamo il braccio destro verso l'alto e giù, spinta del piede sinistro su bene il braccio sinistro e giù, ancora uno per il braccio, su bene, distendo il braccio destro e scendo, su bene e saliamo col braccio sinistro e scendiamo. Cambio gamba, ora siamo in appoggio sulla gamba destra e il piede sinistro che si appoggia sulla gamba destra, sempre sei ripetizioni cambiando il braccio destro e sinistro. Tutti pronti? Lo facciamo assieme e via, spingo sul piede destro e sul braccio destro e scendo e via due, sul braccio sinistro e torno giù col tallone, via salgo in punta di piedi sul braccio destro, tre, spingo in punta di piedi sul braccio sinistro e siamo a quattro, gli ultimi due, spingo col piede destro sollevando il braccio destro e via, salgo in punta di piedi sul piede destro distendendo il braccio sinistro e torniamo giù. Molto bene, bene, abbiamo finito con la prima parte di questa lezione, ora come solito durante la pubblicità recuperiamo un po' di energie, beviamo un bicchiere d'acqua e al ritorno ci posizioneremo a terra sul tappetino sempre con la nostra palla. A tra poco! Rieccoci con la seconda parte di questa ultima lezione con Telemuoviamoci. Come vedete Cristina andremo a posizionarci in posizione supina, quindi sdraiati sul nostro tappetino con la pancia verso l'alto, gambe distese. Quello che andremo a fare è portare tutte e due le ginocchia verso il petto strisciando una fase iniziale i piedi per poi tornare a distendere le gambe. Cristina ora vi mostrerà quindi il movimento. Andiamo a portare le ginocchia verso il petto e torniamo a distendere riappoggiando i piedi. Andremo a inspirare all'andata e espirando torneremo a distendere le gambe. Perfetto! Ci mettiamo tutti in posizione, lo facciamo tutti assieme, siamo sdraiati, posiziona appunto supina con la pancia verso l'alto e via! Strisciamo bene i piedi, distacchiamo, portiamo le ginocchia verso il petto, tenendo le ginocchia piegate riappoggiamo i piedi e torniamo a distendere le gambe. Dieci volte, una l'abbiamo fatta, via! Inspiro e torno a distendere le gambe espirando e due! Via! Striscio bene i piedi, poi li stacco portando le ginocchia al petto e ritorno buttando fuori! E via! Salgo e fuori l'aria scendo! E andiamo, portiamo le ginocchia verso il petto e torniamo a distenderle! E via! Vado e ritorno! Facciamano ancora quattro! Via! Inspiro portando le ginocchia al petto e espiro tornando a distenderle gambe! Andiamo sempre a strisciare i piedi lungo il nostro tappetino! Vado e torno! Ancora due! Via! Sollevo e torno a distendere! Via! Sollevo e torno a distendere le gambe! Molto bene! Andiamo avanti ad allenare il nostro addome! Lo faremo portando tutte e due le braccia aperte all'altezza delle spalle col palmo verso l'alto! Porteremo un ginocchio alla volta verso il petto! Ipotizziamo che sia il ginocchio destro! Lo portiamo verso il petto! Andremo inspirando ad appoggiare la mano sinistra sul ginocchio, quindi la mano opposta, ed espirando faremo un lavoro di contrapposizione, ovvero il ginocchio spingerà contro la mano, la mano spingerà contro il ginocchio, uno contro l'altro e quando abbiamo finito di espirare tutta l'aria che abbiamo nei polmoni torniamo a distendere la gamba ad allargare il braccio. Quindi inspirando solleveremo il ginocchio sinistro appoggiandoci sopra la mano destra e buttando fuori andremo a fare questo lavoro di forza tra mano contro ginocchio che permetterà l'attivazione del nostro addome e quindi torneremo a distendere sia il braccio che la gamba. Ci mettiamo quindi tutti in posizione e partiremo con il ginocchio destro e il braccio sinistro. Inspirandogli appoggiamo fuori l'aria finché esce tutta l'aria e continuiamo a spingere. Quando abbiamo svuotato i nostri polmoni torniamo di stendere la gamba e ad appoggiare il braccio. Ripusiamo un secondo e via ginocchio sinistro contrapposizione con la mano destra fuori tutta l'aria mentre spingiamo e torniamo alla posizione di partenza. Inspirando ginocchio destro contro la mano sinistra e fuori tutta l'aria e ritorno sul ginocchio sinistro contro la mano destra e ispirando fuori tutta l'aria e ritorno ginocchio destro mano sinistra inspiro e fuori mentre spingo l'uno contro l'altro e ritorno ginocchio sinistro mano destra mano sinistra spingo l'uno contro l'altro e ritorno ad appoggiare sia l'abbraccio che la gamba. Andiamo mano destra ginocchio sinistro fuori l'aria mentre spingiamo e ritorno ancora uno per gamba sul ginocchio destro contro la mano sinistra e ritorno ginocchio sinistro contro la mano destra e ritorno molto bene. Ora andiamo a prendere la palla andiamo a posizionarla tra i piedi riportiamo le braccia lungo i fianchi e andiamo a ripetere il primo esercizio che abbiamo fatto a terra ovvero strisciando i piedi portiamo le ginocchia verso il petto inspirando ed espirando riappoggiamo i piedi con le ginocchia piegate distendiamo le gambe osserviamo bene il movimento di cristina striscia i piedi per poi staccarli all'ultimo e poi senza distendere le ginocchia riappoggia i piedi e distende le gambe quindi sfruttiamo il scivolamento sul nostro tappetino andiamo inspirando e torneremo buttando fuori lo facciamo tutti assieme gambe distese palla questa volta tra i piedi e via inspiro le gambe vanno verso il petto espiro i piedi si appoggiano le gambe si distendono e andiamo vado verso il petto e torno a distender le gambe via inspiro ginocchia verso il petto espiro torno a distender le gambe inspiro ed espiro e via stringiamo i denti saliamo con le ginocchia torniamo a distender le gambe siamo a 5 siamo già a metà e via 6 bene dentro l'aria fuori appoggio i piedi distendo le gambe e via 7 salgo e scendo via 8 bene e giù via 9 e giù ancora uno 10 inspiro e distendendo le gambe espiro molto bene recuperiamo qualche secondo e passiamo al prossimo esercizio sempre un esercizio che porterà ad utilizzare molto il nostro addome quello che dovremmo fare è lavorare con la palla appoggiata tra gambe e mani quindi porteremo le ginocchia verso il petto andremo appoggiare la palla alle ginocchia e dall'altro lato della palla avremo le nostre mani cerchiamo di tenere i piedi alti in modo da avere le ginocchia a 90 gradi e il palmo delle mani appoggiato alla palla e andremo a distendere a terra braccia dietro la testa e gamba distesa al tappetino braccio e gambe opposti quindi andremo a distendere braccio destro gamba sinistra appoggiamo pure la gamba a terra e la riportiamo alla palla sia il braccio che la gamba quindi distendiamo braccio sinistro e gamba destra e riporteremo il ginocchio e la mano alla palla contemporaneamente benissimo quindi ci mettiamo in posizione tutti assieme ricordo angolo della ginocchia a 90 gradi appoggiamo la palla appoggiamo le mani sull'altro lato della palla e partiamo con mano destra e gamba sinistra via distendo e buttando fuori l'aria torno su inspiro portando giù mano sinistra e gamba destra e fuori l'aria torno siamo due facciamo due serie da dieci e tre braccio destro gamba sinistra e ritorno quattro braccio sinistro gamba destra e ritorno cinque braccio destro gamba sinistra e ritorno sei braccio sinistro gamba destra ritorno sette braccio destro gamba sinistra ritorno otto braccio sinistro gamba destra ritorno nove braccio destro gamba sinistra, ritorno, 10, braccio sinistro, gamba destra e ritorno. Benissimo, recuperiamo qualche secondo, facciamo qualche bel respiro portando tutte e due le ginocchia al petto e tenendole con le mani. Cerchiamo di rilassare la schiena, l'esercizio che abbiamo appena fatto è un esercizio intenso soprattutto per il nostro addome che va a influire ovviamente anche sulla percezione del dolore della nostra schiena, quindi cerchiamo di rilassarla completamente nel caso dovessimo aver compensato un po' per fatica quei nostri muscoli della schiena. Facciamo dei bel respiri profondi, inspiriamo, riempiamo i polmoni ed espirandoli svuotiamo completamente. Cerchiamo di gonfiare la pancia in ispirazione e di svuotarla in ispirazione e via, inspiro e fuori l'aria, inspiro e fuori. Inspiro, riempio bene i polmoni, fuori l'aria, li svuoto completamente. Inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Molto bene, siamo pronti per la seconda sessione da dieci ripetizioni dell'esercizio precedente. Quindi posizioniamo sempre la palla appoggiata alle ginocchia, angolo del ginocchio a 90 gradi, mani appoggiate sull'altro lato della palla, partiremo braccio destro, gamba sinistra. Tutti pronti? E via! E uno, braccio destro, gamba sinistra e ritorno. Due, braccio sinistro, gamba destra e su. Tre, braccio destro, gamba sinistra e su. Quattro, braccio sinistro, gamba destra e ritorno. Cinque, braccio destro, gamba sinistra e su. Sei, braccio destro, braccio sinistro, scusate gamba destra e ritorno, 7 braccio destro gamba sinistra, ritorno, 8 braccio sinistro gamba destra e su, ancora 2 braccio destro gamba sinistra per il 9 e il 10 braccio sinistro e gamba destra, molto bene, appoggiamo pure i piedi, andremo a unire i piedi, unire le ginocchia, partiremo con le braccia aperte verso l'esterno, palmo delle mani verso il basso, andiamo a portare tutte e due le ginocchia unite verso destra e ruotiamo la testa sinistra e manteniamo questa posizione, stiamo strizzando il nostro rachida, facciamo dei bei respiri profondi, inspirando gonfiamo la pancia ed espirando la sgonfiamo, terremo la posizione che sta tenendo Cristina ora per un minuto e poi andremo a farlo dall'altra parte, quindi per chi ancora non l'avesse fatto, ginocchia unite e tutte e due le gambe verso destra mentre la testa è ruotata sinistra, manteniamo questa posizione, facciamo dei respiri ampi, dei respiri profondi, cerchiamo di gonfiare bene la pancia e di svuotarla e via, inspiro, riempio la pancia, espiro, la svuoto, inspiro a fondo ed espiro, riempio bene i polmoni il più possibile e li svuoto completamente e via, dentro bene l'aria e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, molto bene, torniamo con le gambe e la testa al centro, portiamo ora tutte e due le ginocchia verso sinistra, la testa verso destra e ritorniamo a respirare profondamente, via, inspiro, riempio bene la pancia, espiro, la svuoto completamente, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, riempio bene i polmoni e li svuoto, dentro bene l'aria e fuori, dentro bene, gonfio la pancia, espiro, la sgonfio, riempio bene i polmoni e li svuoto completamente. Molto bene, abbiamo concluso anche con questo esercizio. Siamo quindi giunti al termine di questa ultima puntata della nuova stagione di Telemuviamoci, ricordiamo, programma nato grazie alla collaborazione con l'Università dagli Studi di Brescia, col corso di laurea triennale e magistrale in scienze motorie. Non ci resta che ringraziarvi per aver seguito tutte le nostre lezioni e speriamo di avervi dato uno spunto per uno stile di vita sano e attivo e vi ringraziamo nuovamente e un saluto da Marco e Cristina.